Nella classifica nazionale delle onlus premiate dal concorso Unicredit, il mio dono Summer Edition 2014, i volontari di Amortitalia hanno ottenuto il quattordicesimo posto. 879 voti che hanno fatto guadagnare all'associazione guidata dal presidente Paolo Bocchi 1157 euro da destinare a progetti umanitari. Il concorso che Unicredit organizza due volte l'anno per mettere a disposizione delle onlus titolari di un conto corrente bancario del gruppo la somma di 100.000 euro ha premiato le migliori realtà di volontariato nazionali, suddividendo i fondi in base al numero di preferenze espresse dai cittadini. Davanti ad Amort la fondazione Banco Alimentare che ottiene il primo posto assoluto in classifica, la libera associazione frattese, la fondazione Avsi e ancora quella per la ricerca sulla fibrosi cistica. Gli oltre 1.000 euro di Amort saranno destinati per metà a un progetto di recupero di ragazzi di strada della sede in Romania e per metà saranno utilizzati per l'Africa. I fondi Unicredit, spiega Bocchi, andranno ad aggiungersi al ricavato della 24 ore di sport e solidarietà organizzata a Casamaggiore il 26 e 27 luglio che solo per il numero di iscritti ha doppiato il record dello scorso anno. La giornata che ha visto gli atleti sfidarsi senza sosta, giorno e notte tra partite di tennis, beach volley, gare di bocce, partite di rugby, staffette, corsa notturna e percorsi in mountain bike, ha permesso ai volontari di raccogliere 3.450 euro. 1.725 serviranno a finanziare un progetto della Fondazione Busi di Casamaggiore a sostegno di ragazzi in difficoltà. L'altra metà ad allestire il primo reparto maternità dell'ospedale di Ophia Oji in Nigeria, dove il tasso di mortalità infantile è ancora tra i più alti dell'Africa centro-occidentale.